Cari pellegrini, siamo nel giorno di Pasqua, quindi il giorno della risurrezione di Nosso Signore Gesù Cristo. Ma la risurrezione di Nosso Signore è un fatto vero? Ci sono delle prove di credibilità in merito a quello che raccontano i Vangeli, che di fatto diventa decisivo per la nostra fede, tant'è vero che poi San Paolo stesso dice che se Cristo non fosse risorto, bana, cioè inutile, sarebbe la nostra fede. Allora, per rispondere a questa domanda, prima di tutto io rimando ad altri video che sono presenti sul web dove io approfondisco questa questione, ma ci sono anche altri video molto interessanti da un punto di vista apologetico, relativamente a questo editoriale, visto che gli editoriali devono essere molto brevi, io mi limito a offrirvi questa riflessione. Ci sono di fatto due grandi prove di credibilità della risurrezione di Nosso Signore Gesù Cristo. La prima è questa. Immaginiamo che gli apostoli si siano messi d'accordo e di fatto abbiano trafugato il corpo, infatti si chiama anche ipotesi del trafugamento del corpo, e poi si siano messi d'accordo per diffondere la notizia che Gesù di Nazareth era risorto. Per cui gli apostoli sono in cattiva fede. Ebbene, che fine hanno fatto gli apostoli? Tutti sono morti martiri. L'unico su cui è aperta la discussione se sia morto martire o meno è Giovanni, ma gli altri sono morti tutti martiri. Ora, è mai possibile che delle persone si facciano uccidere per qualcosa che loro sapevano non essere vera e sapevano che fosse solamente una menzogna? Questo non è possibile, perché noi possiamo trovare delle persone che si fanno ammazzare per difendere un'idea, indipendentemente se questa idea sia vera o sia falsa, però ci sono persone che si fanno ammazzare perché credono in qualcosa e non dubitano minimamente che questo qualcosa sia falso, ma non si trovano persone che si fanno ammazzare per qualcosa che loro sanno non essere vera. E questo sarebbe dovuto accadere qualora gli apostoli avessero diffuso una bugia, avessero diffuso una menzogna. L'altra ipotesi che viene fatta da coloro i quali vogliono negare la resurrezione di Cristo è quella di dire che in realtà gli apostoli e i testimoni oculari della resurrezione di Cristo hanno creduto di vedere ma non hanno visto. Proprio perché la prima ipotesi, quello del trafugamento, non regge per i motivi che ho detto precedentemente, è stata formulata anche quest'altra ipotesi che invece presuppone la buona fede dei testimoni oculari della resurrezione di Cristo. Ma questa seconda ipotesi è ancora meno credibile perché non solo non esiste di fatto da un punto di vista scientifico il fenomeno dell'allucinazione collettiva, ma poi è evidente che questa seconda ipotesi presuppone che tutto quello che raccontano i Vangeli sia in buona fede e quindi sia sincero. E com'è possibile che un'allucinazione si faccia toccare? Com'è possibile che un'allucinazione consumi il cibo? E poi se fosse stato tutta un'allucinazione bastava che il Sinedrio mostrasse al popolo il corpo di Gesù per dire vedete questi visionari che cosa diffondono? In realtà Gesù di Nazareth non è mai risorto. Allora capite bene cari pellegrini che questi due argomenti ci fanno capire come la resurrezione sia qualcosa di inequivocabile e di credibile, per cui paradossalmente occorre più fede nel credere che Cristo non sia risorto piuttosto che nel credere che Cristo sia risorto. Rinnovi i miei auguri per una santa Pasqua e vi do appuntamento al prossimo editoriale ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellissima.